le avventure di pinocchio di carlo collodi letto da libri in pillole capitolo 14 pinocchio per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante si imbatte negli assassini davvero disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi tutti ci sgridano tutti ci ammoniscono tutti ci danno consigli a lasciarli dire tutti si metterebbero in capo d'essere i nostri babbi e i nostri maestri tutti anche i grilli parlanti ecco qui perché io non ho voluto dar retta a quell'ugioso grillo chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere dovrei incontrare anche gli assassini meno male agli assassini io non ci credo ne ci ho creduto mai per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte e poi anche se li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione ah neanche per sogno andrei loro sul viso gridando signori assassini che vogliono da me si rammentino e con me non si scherza se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti a questa parlantina fatta sul serio quei poveri assassini mi par di vederli scapperebbero via come il vento caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare allora scapperei io e così la farei finita ma pinocchio non poté finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi da carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi eccoli davvero disse dentro di sé e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca precisamente sotto la lingua poi si provò a scappare ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero Pinocchio non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare a intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso via via denunciarle fuori denari gritarono minacciosamente i due briganti e il burattino fece col capo e con le mani un segno come per dire non ne ho metti fuori denario sei morto disse l'assassino più alto di statura morte ripete l'altro e dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre anche tuo padre no 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 il mio povero babbo no gridò Pinocchio con accento disperato ma nel gridare così gli zecchini gli sonarono in bocca ah furfante dunque denari tani si ha nascosti sotto la lingua sputali subito e Pinocchio duro ah tu fai il sordo aspetta un po che penseremo noi a farteli sputare vai difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura cavato fuori un coltellaccio provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra ma Pinocchio lesto come un lampo gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò e figuratevi la sua maraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto incoraggiato da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro di lui come due cani dietro a una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola né si è mai saputo come facesse dopo una corsa di 15 chilometri Pinocchio non ne poteva più allora vistosi perso si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e ricascando a terra si spellarono le mani e i piedi non per questo si dettero per vinti anzi raccolto un fastello di legna secche a piede il pino vi appiccarono il fuoco in men che non si dice il pino cominciò a bruciare a divampare come una candela agitata dal vento Pinocchio vedendo che le stamme salivano sempre di più e non volendo fare la fine del piccione arrosto spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso i campi e i vigneti e gli assassini dietro sempre dietro senza stancarsi mai intanto cominciava a baluginare il giorno e si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè e latte che fare una due tre gridò il burattino e slanciandosi con una gran rincorsa saltò dall'altra parte e gli assassini saltarono anche loro ma non avendo preso bene la misura patatunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso Pinocchio che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua urlò ridendo e seguitando a correre buon bagno signori assassini e già si figurava che fossero belle affogati quando invece voltandosi a guardare si accorse che gli correvano dietro tutte e due sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti d'acqua come due panieri sfondati